Confidate nella misericordia di Dio, ognuno di noi è peccatore, ma è speciale ed unico, ed è quotidianamente chiamato a seguire la strada della santità. Coraggio, pregate e seguite l'esempio di Carlo, perché tutti abbiamo una speranza. Parole di Antonia Salzano, la mamma del beato Carlo Acutis, nel videomessaggio ai detenuti del carcere di Vallo della Lucania, questa mattina durante la cerimonia di presentazione del laboratorio di ostie Pane Quotidiano Carlo Acutis, interno alla casa circondariale Alfredo Paragano di Vallo, ed è stato intitolato al beato Carlo Acutis, protettore del millennial che il 25 aprile 2025, durante il giubileo, sarà proclamato santo da Papa Francesco. Il laboratorio del carcere di Vallo della Lucania di produzione di oste e particole destinate alla vendita per il culto. Laboratorio che rientra nel progetto formativo solidale nato dalla sinergia tra l'Istituto Penitenziario, la diocesi di Giano Policastro di Vallo della Lucania e la cooperativa sociale al tuo fianco, che vede i detenuti assunti con regolare contratto di lavoro, impiegato nella produzione delle ostie destinate al culto e inaugurato questa mattina e presentato al pubblico e alla stampa. Ostie per il culto che tramite la cooperativa saranno destinate alla vendita, alle parrocchie presenti sul territorio campano e nei negozi di articoli religiosi. Mentre il ricavato della vendita sarà utilizzato per sostenere il progetto che conta l'assunzione di due lavoratori detenuti.